La stagione 2018 è stata una stagione molto importante per me, siamo partiti bene, poi abbiamo faticato un po' ma la quinta gara è arrivato subito un podio e poi il Mugello c'è stata la decisione di venire a correre nel team ufficiale per me è stata una grossissima soddisfazione, avevo l'obiettivo di essere il miglior pilota independent alla fine dell'anno ma purtroppo nell'ultima gara di Valenza sono caduto quando stavo per raggiungere questo obiettivo, purtroppo non ce l'ho fatta ma sono comunque contento di come è finita la stagione perché ho effettuato i primi test con la moto ufficiale e devo dire che mi sono divertito e siamo andati forte. La stagione 2019 per me è la prima da pilota ufficiale e quindi sono molto curioso e ansioso di cominciare, all'omento c'è sempre moltissimo da fare però mi sto divertendo tanto e non vedo l'ora di andare in moto perché mi sto preparando molto e quindi sono molto felice di cominciare questa nuova esperienza, mi trovo molto bene con le persone con cui lavoro, erano già parte delle persone con cui lavoravo perché ero già un pilota Ducati ma adesso sicuramente è tutto molto più bello, è tutto molto più rosso. Per me la stagione 2018 stava importante, come ho detto avevo degli obiettivi che sono riuscito in parte a raggiungere e sicuramente sono cresciuto, è stata la stagione con cui ho fatto più punti in MotoGP quindi è stata la mia migliore stagione, peccato aver fatto solo un podio, aver perso due volte il podio invece all'ultimo giro a Jerez in Germania e non siamo stati aiutati tante volte dalla fortuna ma anche io ho fatto degli errori e quindi so dove posso migliorare per quest'anno e sicuramente sotto l'aspetto tecnico è cresciuto molto il livello, nella squadra ufficiale ci sono molte più persone che lavorano con me e che possono aiutarmi e credo di poter aiutare anch'io lo sviluppo della moto per quest'anno. La nuova moto l'abbiamo provata a Valencia nei test a fine stagione a Jerez e devo dire che sono rimasto molto contento del feeling, non è una rivoluzione ma è un'evoluzione della vecchia moto che al momento non ha portato punti negativi almeno nelle piste dove abbiamo girato, sono stato anche il più veloce un giorno a Jerez e sono molto contento, non avevo mai fatto quel tempo con una moto a Jerez quindi devo dire che ho finito l'anno in maniera molto soddisfacente però devo aspettare prima di farmi un'idea perché vorrei prima girare a Sepang dove la temperatura è molto calda e le condizioni sono diverse e sono quelle con in cui vado più in difficoltà. Andrea è prima che un grandissimo pilota è una bravissima persona, l'anno scorso si è proposto lui di aiutarmi e io ne sarò molto grato, io ne sono già grato quest'anno, già abbiamo fatto degli allenamenti insieme, seguiamo lo stesso programma di preparazione e spero che il nostro rapporto possa diventare sempre meglio e meglio, ci conoscevamo già da un po', lui mi ha sempre voluto aiutare, quest'anno io penso che da lui posso imparare moltissimo e spero di ridargli indietro a tutto quello che mi dà in aiuto. Dico spesso che grandi aspettative portano a grandi delusioni, soprattutto nella MotoGP di oggi che penso possano essere dieci piloti in grado di lottare per la vittoria, per il campionato non lo so assolutamente, anche perché ancora non siamo nemmeno scesi in pista, però vorrei fare la mia miglior stagione in MotoGP e correre con questa squadra per molti altri anni. Grazie a tutti.